Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi sono qui su GTA 5 Perché già ieri vi ho fatto vedere il trailer del nuovo DLC Però oggi voglio mostrarvi delle cose nuove che sono uscite su internet Che anzi Rockstar stessa ha pubblicato Addirittura per il casino ci ha creato un sito internet intero Dove ci ha appunto messo delle cose incredibili Dove ha descritto praticamente bene o male tutto E dove ha aggiunto delle foto che oggi andremo ad analizzare Vi lascio ovviamente il link del casino, del sito Qui sotto in descrizione E detto questo direi di iniziare Però prima vi invito a lasciare un bellissimo like al video Iscrivetevi se non siete ancora iscritti E condividete questo video ovunque E fatemi sapere qual è la foto che vi ho mostrato che vi è piaciuta di più Eccoci qua, la prima foto è quella del casino ripreso dall'alto E si vede tutta l'intera struttura del casino Che è davvero molto bello Ho notato che tipo anche il parcheggio è stato cambiato, è stato migliorato Hanno cambiato praticamente pressoché tutto Anche l'entrata principale Cioè il casino come lo vedevamo una volta non è più così È praticamente totalmente nuovo E per come la struttura, davvero molto figa di design, di tutto A me piace un sacco E Rockstar non poteva fare di meglio Poi sopra, addirittura sopra il casino c'è l'attico Dopodiché il sito è suddiviso in sezioni E queste foto che vi sto mostrando ora fanno parte della sezione membri Questa è la foto di una limousine Una limousine classica che si trova all'entrata del casino E con il nuovo DLC abbiamo la possibilità di chiamare Servizio di limousine che ci porterà praticamente dove noi vogliamo gratuitamente Quindi ecco che cosa serve la limousine al casino Tecnicamente sarebbero come dei tassisti Dopo non so perché cosa c'entra C'è sta una donna delle pulizie Però nella descrizione dicono insomma che non c'è materiale corporeo O materiale potenzialmente infettivo Che loro non possono rimuovere Quindi in caso di omicidi ecco possono pulire di tutto Questa foto invece ritrae la zona high limit Ovvero la zona dove c'è un alto limite Dove si giocano un sacco di soldi E i residenti del resort possono entrare qui a spendere tutti i soldi che hanno Vedendo gli interni il casino all'interno è una figata assurda Non vedo l'ora che esca dopo di che c'è una foto per quanto riguarda un elicottero Che si trova sull'attico del palazzo E a quanto pare sicuramente si potrà richiedere Insomma il servizio di elicottero come per la limousine Per poter andare praticamente ovunque Quest'altra foto ritrae invece la festa che c'è dentro il casino Dentro il resort dove appunto tu ti ci puoi rifocillare di bibite di tutto Insomma ti ci puoi divertire Una classica festa normale Tra l'altro da qui si potrà notare appunto nuovi vestiti Soprattutto per i pg femminili Ci sono nuovi vestiti Per quelli maschili invece non si riesce a capire bene Un'altra foto bella che mi è piaciuta un sacco È questa qui che tiene la bottiglia di champagne piena di diamanti E la descrizione di questa foto è davvero simpatica Il nostro codice di condotto del cliente afferma che se un membro viene visto Ordinare una bottiglia del nostro champagne migliore Ne spargerà metà sulla clientela Insomma cavolate a cui Rockstar ci ha abituato ormai Tra l'altro in questa foto di questa persona che tiene lo champagne in mano C'è qualcuno che ha detto ma questo qui non è un NPC Cioè questo è un pg che si può creare su GTA E Rockstar lo sta usando come NPC Quindi ora come ora Rockstar sta usando anche personaggi multiplayer come NPC Poi ecco qui le foto del garage sotterraneo che c'è Ora non so se questo garage venga inteso come garage dove tu parcheggi così no? Per finta diciamo Oppure come garage vero e proprio da acquistare Dopo la cosa figa è che noi possiamo lasciare la nostra macchina ad un parcheggiatore E lui lo andrà a parcheggiare Non so bene come funzionerà Però così dice Rockstar Anche perché dice che i nostri parcheggiatori sono disponibili 24 ore su 24 E sono addestrate a non guardare mai nel bagagliaio A non aprire mai il vano porta oggetti E a non fare mai domande Dopo c'è la zona VIP Esclusivamente per i residenti Qui all'interno non si è capito cosa si può fare Ma innanzitutto già il solo entrare lì dentro Mostrerà la nostra ricchezza e il nostro potere dentro Los Santos Quindi entrare lì dentro vuol dire che si è all'apice di tutto Comunque anche questa è una bella zona Anche c'è fatto bene Mi piace un sacco Guardate dietro i diamanti che cadono Tanta tanta roba Andiamo a vedere invece le foto degli attici Ovvero della penthouse La penthouse che non ho ben capito a cosa ci servirà Però lo scopriremo meglio in game Sicuramente sarà un edificio Insomma un'abitazione molto costosa Che potremmo comprare E che sarà insomma utilizzata per qualcosa in particolare può essere In ogni caso gli interni e insomma le foto che vi farò vedere ora Sono davvero molto fighe E quindi iniziamo subito La prima foto ritrae semplicemente il salotto Insomma una zona soggiorno dove c'è una televisione immensa davanti Passiamo avanti con la foto dove ci sono delle slot machine Ma anzi queste non sono slot machine Questi sono giochi arcade veri e propri Quindi ci saranno dei nuovi minigiochi all'interno di GTA Che noi appunto nella nostra penthouse possiamo giocare Credo che questa penthouse sia l'edificio da comprare Per poter essere un membro del casino Ora mi è più chiaro diciamo Perché altrimenti non avrebbe senso Comunque qui si potrà vedere la camera da letto Le varie stanze E diciamo quella più particolare È quella della zona bar Della zona party Dove anche qui ci sono delle slot machine Insomma dei giochi arcade Dove poter giocare Una zona giochi ecco E dopo c'è una zona bar bellissima Ben decorata Dettagliata Da questa foto Dalla descrizione che Rockstar lascia Di questo garage Si potrà comprare il garage Assieme appunto alla penthouse Dove possiamo conservare i nostri veicoli Dopodiché guardate le varie stanze Come appunto altre stanze da letto Il bagno che è strafigo Il tutto immaginate Con una vista spettacolare Su tutta la città di Los Santos Che praticamente questo edificio si dovrebbe trovare All'interno insomma del casino resort Insomma questo è il resort di lusso Tanto atteso Dopodiché c'è anche una foto Che ritrae l'ufficio della penthouse E all'interno ci sta l'armadietto delle armi Una cassaforte nascosta E insomma il computer Per tenere a bada tutti i nostri affari Questa foto invece ritrae un mobile Un armadietto Dove appunto possiamo lasciare E collezionare i vari oggetti Che il casino metterà Diciamo in palio Per le vincite E niente Queste sono altre zone Del soggiorno e quant'altro Sicuramente sarà un po' tutto diverso A seconda di come noi vogliamo Scegliere l'arredamento All'interno del casino Si potrà scommettere Sulle corse dei cavalli Queste corse non sono reali Bensì virtuali In pratica ci si trova All'interno di questa stanza E ci sia davvero Uno schermo gigante Per vedere bene Tutta la simulazione Mi piace Anche questo sarà da provare Quest'altra foto invece Delle slot machine È una delle foto Che mi è piaciuta di più Perché gli interni Sono fatti bene Ci sono i diamanti che cadono C'è un diamante gigante Al centro delle slot machine E qui insomma Non so se si potranno Scommettere dei soldi O insomma Giocare veramente A queste slot machine Credo di sì Speriamo Perché insomma Sarebbero da provare Un po' tutte Ecco Ci sono anche dei giochi da tavolo Oltre alle varie slot machine Dove appunto Potremmo scommettere Le nostre fish E possiamo perdere Tutti i soldi Insomma Oh ecco qua Una foto piccantina Che ritrae Un po' Gran parte Del casino Dove possiamo vedere La ruota della fortuna La macchina In palio Che si può vincere Tramite Non so Qualcosa La zona bar La zona bar E insomma Tanti tanti NPC Che popolano Il casino La prossima foto Invece È quella Della ruota Della fortuna Che appunto Qui ci sarà La possibilità Di vincere Anche l'auto Ma anche Di vincere Vestiti Di vincere fish Di vincere Dollari Di RP Insomma Di tante tante cose La possibilità Di vincere l'auto È davvero Una cosa bella Anche perché Dovete sapere Che ogni settimana Verrà cambiata L'auto Che sarà messa In palio Come vincita Che noi appunto Potremmo vincere Tramite la ruota Della fortuna Oppure Non so Bene In quale altro modo Dopo Per ultimi Ma non per importanza Ci sono anche Degli oggetti Di arredamento Nella sezione Negozio Del casino Insomma Casino store Dove appunto Rockstar Mette questi oggetti In vendita O meglio Io credo Che siano Più oggetti In palio Che si può vincere Magari vincendo Una mano lì Vincendo Alla slot machine Eccetera Eccetera E questi oggetti Andranno Tecnicamente Ad Decorare La zona Della nostra Penthouse Credo In ogni caso Qui possiamo vedere Gli oggetti Del casino Che sono appunto Una tigre Viene chiamata Un osservatore D'argento Un cane giallo Con cono Io ci vedo tutto Ma tranne un cane Qui La mia collezione D'oro Ovvero Le varie armi Decorate Di tutta Insomma Di oro Placcato sopra A morire E dopodiché Anche una foto Di una persona Chiamata Zietta Papavero Ora Comunque invece Questa è la zona Del guardaroba Insomma Dove si possono Comprare i vari Vestiti Ok Le foto Non sono finite Qui Vi faccio vedere Qualche altra foto Che scorre Nel frattempo Del casino Insomma Di tutte le altre cose Fatemi sapere Qual è la cosa Che vi ha impressionato Di più Di questo DLC Perché onestamente Perché onestamente A me invece È piaciuto Un sacco Il fatto Che ci siano Queste zone VIP Queste zone High limit Insomma Qualcosa di davvero figo Dopodiché L'attico Insomma È tutto da scoprire Perché non ci sono Molte foto Dell'attico In sé per sé Ovvero Della zona aperta Del casino Questi oggetti strani Come il cane giallo Wow Cioè Chissà magari Se in real life Ci sta qualche oggetto Simile Che magari Viene valutato Chissà quanti Milioni Milioni Quando magari Il mio falegname Lo faceva meglio Quei 2 euro Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di questo DLC Qual è la cosa Che vi è piaciuto E detto questo ragazzi Condividete il video Sui vari social Lasciate un bellissimo like Iscrivetevi Se siete ancora iscritti E noi ci vediamo Al prossimo video E Ciao ciao